Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Oggi video dei prodotti finiti. Ho davvero tantissime cose da mostrarvi, ho due borse piene e infatti ho deciso di dividere questo video in due parti, altrimenti sarebbe stato davvero troppo lungo. Per cui parto subito a farvi vedere che cosa ho finito in questo lunghissimo periodo. Il primo prodotto che voglio farvi vedere è uno dei miei prodotti preferiti, sì, uno dei miei prodotti preferiti che ho scoperto da Elisabetta R. Lei ne ha sempre parlato e ne parla in maniera estatica, comunque dice che è un ottimo prodotto e ha tutte le ragioni. E si tratta del Talasso Scrub della Sienne. È questo scrub esfoliante con vitamina E e sale marino ed ha una piacevole sensazione di rivitalizzazione. Ed è verissimo, è profumatissimo, ha un profumo molto particolare, si sa di mare, assolutamente. E quando... che buono! Mi fa venire in mente le vacanze al mare, ma non solo il profumo del mare, proprio sembra il profumo che si respira nelle località di mare. È veramente buono, viene voglia sempre di sniffarlo continuamente. E al di là del profumo che, appunto, come dicevo, è buonissimo, è veramente un ottimo prodotto. Lascia la pelle morbida, vellutata, e è davvero una coccola. È molto bello anche da usare, perché si presenta come dei granuli di sale immersi in questo olio e, secondo me, io lo uso anche senza poi usare il bagno schiuma dopo, perché ha questo buonissimo profumo e fa anche un po' di schiuma. Sì, fa anche un pochino di schiuma e è buonissimo, è buonissimo. Ha questo profumo e usando poi il doccia schiuma mi sembrerebbe brutto, mi sembra quasi che tolga appunto il profumo. Ottimo, ne ho già due, uno in uso, ne ho altri due, anzi, ne ho altri due, uno in uso e uno di scorta, perché non ho la Lidl molto vicino, perché la Sien, come sapete, si acquista da Lidl, è un prodotto della Lidl, per cui quando mi capita di andare appunto in negozio e faccio scorta, e l'ultima volta me ne sono presi due, oltretutto costa pochissimo, adesso penso sia sotto i 4 euro, non ricordo con precisione, forse 3,79 euro, mi sembra un prezzo del genere, però ecco, e sono 600 grammi di prodotto, per cui è ottimo anche il rapporto prezzo-qualità. Ottimo, questo qui è buonissimo, è uno dei miei preferiti di sempre. Andiamo oltre, questa volta con questo prodotto della Perlier, è un doccia schiuma alla fresia di Lanzarote, eccolo qua, questo, anche questo è un doccia schiuma che ho usato parecchio, devo averne acquistati due o tre flaconi, perché le avevo trovati in offerta al Tigotà, se non ricordo male, ottimo, un buonissimo profumo, sì, veramente buono, mi è piaciuto tantissimo, ho anche l'acqua profumata, no, l'acqua profumata per il corpo, che anche quella è veramente molto buona, buono anche questo, al di là del profumo, è anche un ottimo doccia schiuma. Non posso dire lo stesso della crema, sempre nella stessa profumazione, perché la crema non mi è piaciuta per nulla, questa è una crema per il corpo, crema idratante, vellutante corpo. Al di là della crema, che in sé non era neanche male, però forse sono abituata con la CeraVe, che assolutamente è una delle mie preferite, è super nutriente e mi trovo benissimo, questa è un po' più leggera e ha un profumo terrificante, non lo so se sono stata sfortunata io, ma il profumo, il buon profumo che ha il doccia schiuma, che ha l'acqua per il corpo, qua io non lo ritrovo, assolutamente, anzi sa di plastica, non lo so, forse sono stata sfortunata io che ho preso magari una crema che, non lo so, è data tanto un tempo in negozio, ma non credo, non so, a questo retrogusto, si sente pochissimo il profumo di fresia, comunque il profumo del prodotto e si sente questo odore di plastica, per cui no, non mi è piaciuta, mi dispiace, perché appunto mi ero trovata bene sia con l'acqua per il corpo che con il doccia schiuma, invece questo è bocciatissima, non mi è piaciuta, niente, questa non si comprerà mai più. Passiamo ad altro, altro doccia, altro doccia schiuma, questo doccia latte idratante con proteine del latte della Nidra, questo è favoloso, questo mi piace da morire, è una crema corposa e ha un profumo, ha un profumo stupendo di pulito, è buonissima, è veramente, è veramente ottima, questo lo trovo al Tigotà, l'ho trovato al Tigotà, sì, se non ricordo male, e anche al DM, e costa pochissimo ed è un prodotto favoloso, me ne sono innamorata, veramente buono, 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 mi piace, mi sto trovando veramente molto bene. altro doccia schiuma che mi è piaciuto molto, mi è piaciuto sia il profumo, sia come prodotto, come doccia schiuma, è questo della Neutromed, acqua di cocco con estratto di cocco, ecco qua, questo è davvero molto tempo che l'ho provato e l'ho finito, però devo dire che mi è piaciuto, ha un profumo molto particolare, sa di cocco, ma non il solito profumo di cocco, non lo so, ha qualcosa di verde, non sono molto brava a spiegare i profumi, però veramente buono, mi è piaciuto tanto anche questo. Poi vediamo un po', altro doccia schiuma, sì, anche questo è un doccia schiuma, anzi no, questo è un bagno doccia, rilassante, alla mandorla e ai fiori d'arancio, della Yves Rocher, eccolo qua, questo è veramente ottimo, ha un profumo molto particolare, che sì, è veramente molto particolare, ma mi è piaciuto davvero tanto, è un buonissimo prodotto, perché comunque io mi trovo, mi trovo bene con i doccia, i bagno doccia della Yves Rocher, prima di questo avevo, avevo usato e terminato, quello alla vaniglia, che era spettacolare, aveva un profumo favoloso, è buono, ottimo anche questo, sono, mi trovo sempre bene con questi prodotti, della Yves Rocher. Vediamo un po', altro prodotto, che questo non l'ho ancora finito, però volevo parlarvene, ma è quasi terminato, probabilmente mi basterà per, un paio di volte, e questo prodotto della Nivea, è un doccia rinfrescante, della Fresh Smoothies, a lampone, mirtillo e latte di mandorla, per una pelle bella e luminosa, eccolo qua, e questo, no, questo non mi è piaciuto, ma non tanto per, per il prodotto, perché, devo dire che è una bella, fa una bella schiuma, è una bella, è morbido, è assolutamente quello, non c'è nessun, non ho nessun problema, ma è a me quello che frega, è il profumo, e ha questo odore, che non mi piace neanche un po', allora, il lampone e il mirtillo, mi piacciono tantissimo, come frutti, li adoro, mi piacciono, mi piace, mi piacciono, ho capito che però, in questo tipo di prodotti, no, non mi piace il loro profumo, mi sa di aspro, di acido, e non è andato male, cioè è proprio, è proprio il profumo del prodotto, e no, non mi piace per niente, mi faccio la doccia, praticamente trattenendo il fiato, perché lo voglio finire, non voglio, non voglio buttarlo, però ecco, è uno di quei prodotti, che non riacquisterò mai più, e con questo, un altro prodotto, che boccio, ma anche questo non per, per il prodotto in sé, ma per il profumo, e lo so, probabilmente è una mia, è un mio limite, non so cosa dirvi, è questo shampoo della Winnie's Natural, eccolo qua, e anche questo è, con i frutti rossi, questo, allora, c'è il melograno, e il mirtillo, mirtillo nero, sì, melograno e bacche di mirtillo nero, e anche questo, praticamente, mi facevo lo shampoo in apnea, perché, anche questo, ha un odore terrificante, di quel, così, che non mi piace neanche un po', devo dire però, come shampoo, era favoloso, perché lasciava i capelli pulitissimi, scrocchiavano perfino, e vedete che io li ho davvero molto corti, però, si sente quando lo shampoo lava, però, ecco, questo, questo profumo, non, assolutamente, non lo sopporto, e niente, anche questo, non lo si comprerà mai più, altro shampoo, ah, forse c'era un altro bagno doccia, sì, ve lo faccio vedere dopo, altro shampoo, che invece, mi è piaciuto, tanto, questo, della Balea, questo shampoo, nutriente, con estratto di curcuma, e latte d'avena, per capelli sfibrati, dona brillantezza, morbidenza, brillantezza, e morbidezza, buono, ha un profumo, buonissimo, di biscotti, sarà l'avena, non lo so, l'avena è latte, non lo so, però, il profumo, era veramente, mi è piaciuto moltissimo, e devo dire, che anche come shampoo, non mi è dispiaciuto, per niente, e questo, sì, della Balea, mi è caduto tutto quanto, ma va bene, lasciamo perdere, allora, altro shampoo, sempre della Balea, questo, è shampoo, intensive, Fledge, però, è detto in tedesco, lasciamo perdere, vediamo, c'è la traduzione in italiana, shampoo nutriente, con olio di mandorle, al profumo di vaniglia, il profumo qua, era spettacolare, eccolo qua, anche la confezione, è molto carina, tutta così, tutta gialla, però lo shampoo, in sé, no, qua mi è piaciuto il profumo, però, non mi è piaciuto, sembrava, non faceva schiuma, e, mi dava l'impressione, che non lavasse i capelli, e se io, ho questa impressione, con i capelli così corti, no, questo è bocciato, assolutamente, altro doccia schiuma, che anche questo, purtroppo, è un no sonoro, è questo della Nivea, è questo Rich Kering, Shower Oil, questo è, eccolo qua, purtroppo io, con i prodotti, con i prodotti formulati a olio, non ci vado molto d'accordo, avevo già provato, un olio per il corpo, e, mi aveva seccato la pelle, piuttosto che, che nutrirla, lo so che è una cosa, è un controsenso, però, non lo so, e anche questo, non mi è piaciuto, oltretutto, cosa dice qua, nutrimento intenso, con il 55% di, di naturali, vabbè, detersione profonda, no, no, assolutamente, oltretutto, anche il profumo, che per me, è importante, non, non mi diceva nulla, sì, mi sono resa conto, che davvero, mi seccava la pelle, per cui, anche questo, è un prodotto, assolutamente bocciato, che non acquisterò mai più, passiamo adesso, ai capelli, anzi, ritorniamo ai capelli, con questo invece, che, questo shampoo, con il quale, mi sono trovata, molto bene, della Garnier Fructis, shampoo, air food, aloe vera, idratante, deterge, idrata, e non appesantisce, questo è formula vegan, reciclabile, no, si dicono, vabbè, cappelli da normali a secchi, questo, devo dire, che mi è piaciuto molto, è uno shampoo, che, penso che riacquisterò ancora, perché, veramente, anche il profumo, era veramente, era molto buono, mi è piaciuto, bella anche la, la confezione, così, buono, anche questo buono, sempre per, sempre per i capelli, il mio amato shampoo, eh sì, shampoo, va bene, il mio amato gel, ecco qua, questo è della taft, questo ormai sono, è un po' di anni, che lo, che lo adopero, che lo uso, e mi trovo benissimo, eh, è questa pasta extreme, power gel, tenuta extra forte, non incolla, e zero residui, effettivamente, è vero, perché comunque, non, non incolla, infatti, si asciuga molto velocemente, mantiene i capelli in piega, e basta un colpo di spazzola, e se ne va, devo dire che io mi lavo i capelli, praticamente tutti i giorni, soprattutto in estate, per cui, non è che, non è che lo elimino con lo shampoo, voglio dire, però, è veramente ottimo, sì, questo lo trovo al Tigotà, solo al Tigotà, perché all'esse lunga, non c'è, eh, no, non c'è proprio, forse c'è un altro tipo di, un altro tipo di gel, ma con questo mi trovo bene, per cui, il Tigotà ce l'ho a due passi, perché no, eh, per cui, questo, buono, buono, e, vediamo un po' ancora gli ultimi prodotti, poi ho finito, eh, allora, questo è Invisible Care, della DAV, questo deodorante, eccolo qua, anche questo, eh, mi è piaciuto molto, mi sono trovata molto bene, è un, ha un, il profumo molto leggero, io adoro i deodoranti con, eh, con un profumo delicato, in questo caso, la profumazione è Floral Touch, e, eh, anche Zero Alcol, e, eh, anche antitraspirante, sì, ottimo, e, dicevo che mi piacciono i deodoranti, eh, con, eh, la profumazione leggera, perché, non lo so, mi dà l'impressione che, eh, metto il deodorante, poi, magari, metto il profumo, ed esce un pastroccio, e, anche no, preferisco, preferisco questi, e questo, devo dire, mi è caduto un altro in pezzo, eh, e questo, devo dire, che, eh, con questo, devo dire, che mi sono trovata bene, ed odora benissimo, e, mh, dura tantissimo, eh, perfetto, perfetto, mi piace. Gli ultimi due, prodottini, che ho finito, sono questi due, profumi, eccoli qua, questo è True Love, e questo è Soft Brush, che ho acquistato, eh, da Primark, sì, in una delle scorribande con, con Giulia, eh, diciamo che, sì, mi sono piaciuti, mi piacevano all'inizio, poi invece, questo soprattutto, eh, non sono più riuscita ad usarlo, mh, alla fine, mi ha un po', non lo so, mi ha un po' stufato, non lo so, e invece questo, l'ho usato, l'ho usato fino, fino in fondo, e questo è diventato il, il profumatore per il bagno, ogni tanto, lo spruzzavo nel bagno, così almeno, l'ho utilizzato tutto, e non ho dovuto buttarlo, e bene, ecco qua, la mia borsa, la prima borsa è finita, eccola qua, è vuota, l'abbiamo svuotata insieme, eh, grazie per essere rimaste, fino qui con me, spero di avervi fatto, un po' di compagnia, e ci vediamo, alla seconda parte, di questo video, di prodotti finiti, intanto vi mando, un bacio grande, e ci vediamo presto, ciao! Grazie! Grazie!